Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video! Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop, vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Quando ho scoperto questo caso sono rimasta molto colpita, me l'ha consigliato qualcuno o qualcuna di voi nei Google Docs e devo dire che questa storia è molto particolare. La protagonista di questo caso si chiama Sherry Papini, nasce l'11 giugno del 1982 ed è una ragazzina molto legata alla sua famiglia. Sherry cresce in un contesto familiare normalissimo e quindi vive un'infanzia e una preadolescenza felici. Quando è in seconda media incontra e conosce un ragazzo di nome Kate Papini, i due iniziano ad uscire molto spesso fin da piccoli. Ovviamente sono amici, quindi hanno modo di conoscersi e praticamente crescono insieme. Ci troviamo a Reading, in California. Kate e Sherry, quando crescono, si mettono insieme e decidono di andare a convivere. Quando inizia la convivenza, però, iniziano anche i problemi. I due litigano spesso e Sherry alla fine lascia Kate per poi sposarsi con un altro ragazzo nel 2006. Ma in questa relazione le cose iniziano a peggiorare davvero in poco tempo e Sherry si ritrova a parlare di nuovo con Kate. Ben presto, dunque, Sherry divorzia e per l'appunto torna a vivere con Kate. Nel 2009 Sherry e Kate si sposano e dall'esterno sembrano una coppia perfetta. I due vanno molto d'accordo, passano un sacco di tempo insieme e si amano molto. A quanto pari i problemi che avevano avuto quando erano stati insieme la prima volta non si sono ripresentati, quindi sono cresciuti e sono maturati, imparando dei loro errori. Il tempo passa. Per l'esattezza passano sette anni e sono sette anni sereni, felici. Poi, ecco che arriva il 2016. Sherry e Kate a questo punto hanno messo al mondo due figli. Una bambina di nome Violet, che ha due anni, e un bambino di nome Tyler, che ha quattro anni. Vivono a Mountain Gate, in California, nella casa in cui Kate è cresciuto. Mountain Gate è davvero una piccola comunità formata da circa 900 abitanti. Al circa 17 chilometri di distanza c'è Ridding, che è il capoluogo della contea di Cesta. La famiglia Papini passa parecchi momenti felici. Sherry sta a casa a prendersi cura dei suoi figli, quindi è una mamma e una casalinga a tempo pieno. Ed è molto amata dalla comunità. Tutti pensano che sia un'ottima madre. Alcune persone la definiscono addirittura una super mamma. Nell'autunno del 2016, Sherry inizia ad allenarsi, a mandare a correre. Dovete sapere che la famiglia Papini vive in un bellissimo quartiere nel nord della California. Arriviamo quindi al 2 novembre 2016. Kate, quella mattina, saluta tutti, come al solito, ed esce di casa per andare a lavorare alla Best Buy. Una multinazionale americana al dettaglio di elettronica, con sede a Richfield, nel Minnesota. Verso le 11 di quella stessa mattina, Sherry decide di uscire per andare a fare una corsetta. Indossa quindi la sua giacchetta alla corsa ed esce di casa. La famiglia Papini vive in una zona abbastanza tranquilla. I vicini sono pochissimi, quindi nessuno vede Sherry. Sherry sta correndo. Si trova tra la Sunrise Drive e la Old Oregon Trail. Poi, di colpo, vede tutto nero. Non capisce cosa le stia succedendo. Intanto passano le ore e Kate torna a casa per le 16.30. E solitamente a quell'ora tutta la famiglia è già a casa, sia i suoi figli che sua moglie. Quindi apre la porta di casa, chiama i suoi figli e sua moglie, ma nessuno gli risponde. In casa non c'è nessuno. Inizialmente Kate cerca di non farsi prendere dal panico, quindi afferra il telefono e chiama l'asilo. Vuole sapere dove siano Tyler e Violet. E le maestre che gli rispondono gli dicono che effettivamente entrambi sono ancora all'asilo. Nessuno è passato a prenderli. A questo punto Kate apre l'applicazione Trova il tuo iPhone per localizzare il cellulare di Sherry. E scopre che il telefono di Sherry in effetti si trova vicino alla loro cassetta della posta. Peraltro non è neanche davanti a casa loro, ma a circa due chilometri di distanza. Quindi Kate sale in macchina e guida verso la loro cassetta della posta sperando di trovare Sherry. Forse è uscita per fare una passeggiata e per controllare la posta. Ma allora perché non è passata a prendere i bambini all'asilo? A questo punto Kate arriva davanti alla sua cassetta della posta e si ferma all'incrocio tra Sunrise Drive e l'Old Oregon Trail. Il purtroppo di Sherry non c'è nessuna traccia. Non troppo lontano Kate però trova il suo telefono con gli auricolari ancora attaccati. Attorno a quegli auricolari ci sono dei cappelli di Sherry. Kate a questo punto si preoccupa sul serio e inizia a pensare che sia successo qualcosa di davvero brutto. Quindi Kate cosa fa? Risale in macchina e fa un giro nei dintorni sperando di trovare Sherry nella zona. Ma le sue ricerche non danno alcun frutto quindi decide di chiamare il 911. Kate dice alla centralinista. Sono appena tornata a casa mia e mia moglie non è in casa. Il che è molto insolito. I miei figli sarebbero dovuti già essere a casa. Mia moglie li porta all'asilo nido e li va a prendere. Oggi non l'ha fatto. Ho pensato che fosse uscita a fare una passeggiata quindi ho iniziato a cercarla ma non l'ho trovata da nessuna parte. A questo punto sono letteralmente andato fuori di testa. Ho azionato l'applicazione Trova il mio iPhone e ho trovato il telefono alla fine della nostra via con attaccate ancora le cuffie perché era solita uscire a correre ascoltando la musica. Ho trovato il suo telefono ed è come se una ciocca di capelli le fosse stata strappata via rimanendo incastrata tra le cuffie del telefono. Quindi ho iniziato ad allarmarmi. Ho pensato che qualcuno l'avesse rapita. La centralinista del 911 dice a Kate di tornare a casa e di stare tranquillo. La polizia lo avrebbe raggiunto a breve. La polizia quindi si dirige verso casa di Sherry e appena arrivano danno il via alle ricerche. Kate è davvero sconvolto, è preoccupato per sua moglie. Infatti fa diverse apparizioni pubbliche in cui chiede con le lacrime agli occhi di liberarla. Però i giorni passano uno dopo l'altro e di Sherry non c'è alcuna traccia. Il caso riceve molta attenzione da parte dell'opinione pubblica e da parte dei media. Tutta la comunità inizia immediatamente a fare ricerche con la polizia perché sono tutti davvero molto molto preoccupati. Kate a questo punto rilascia un'altra dichiarazione pubblica ai rapitori supplicandoli di lasciare andare sua moglie. Ripete che l'ama tantissimo ed è chiaro che Kate durante questa dichiarazione si è distrutto. Inizialmente prova a trattenersi ma non resiste, inizia a singhiozzare e a piangere. Intanto i volontari e la polizia occupati nelle ricerche provano a coprire quanta più area possibile del quartiere da cui Sherry è scomparsa. Alle ricerche si unisce anche Kate che non riesce assolutamente a stare con le mani in mano. Anche lui vuole assolutamente cercare sua moglie ma soprattutto la vuole trovare. Decide di avvisare i suoi figli, Violet e Tyler, di ciò che sta succedendo. Ovviamente non sanno esattamente cosa sia successo ma Kate non gli tiene nascosta la situazione. L'unica cosa che sanno Violet e Tyler è che loro madre non può tornare a casa. Le ricerche sono davvero imponenti, la comunità dà una mano, la polizia è sul campo. Purtroppo però per quanto cerchino di scoprire cose nuove, nuove piste, indizi, non riescono a trovare nulla da cui partire. Niente di niente. Quella donna è semplicemente svenita nel nulla e inoltre non c'è nessun testimone che abbia visto cosa sia successo a Sherry. La comunità ovviamente prova a dare suggerimenti. La polizia prova ad approfondire sempre ogni suggerimento, ogni idea che però ahimè non portano assolutamente a niente. Arriva un momento in cui Kate si sente davvero profondamente frustrato. Quindi crea la sua squadra formata da un gruppo di cari amici che potrebbero aiutarlo ad indagare sul caso per cercare e trovare Sherry. Questo gruppo di amici, questa squadra che forma Kate, si ritrova in una piccola stanza a casa di Kate. La trasformano in una specie di sala riunioni e quella stanza diventa il quartier generale delle indagini. A questo punto Kate apre anche un account GoFundMe, che è una piattaforma americana di crowdfunding che consente alle persone di raccogliere fondi per degli eventi. In questo caso Kate vorrebbe assumere un investigatore privato che gli aiuti nelle indagini e nelle ricerche. Alla fine Kate in effetti assume un investigatore privato di nome Cody Salfin per aiutarlo a trovare Sherry. Ovviamente Kate nel frattempo continua a collaborare con la polizia, ma la situazione inizia a farsi tesa. La polizia teme che Kate faccia delle dichiarazioni riguardo la sua indagine, rischiando di compromettere la loro indagine. Kate tuttavia è consapevole che può essere considerato un sospettato. Ecco perché si offre volontariamente di fare un test del poligrafo, che tra l'altro supera senza alcun problema. Il vero motivo per cui anche dopo il test del poligrafo la polizia nutre dei sospetti su Kate è per il modo in cui era stato ritrovato il cellulare di Sherry. Sembrava che qualcuno l'avesse posizionato lì, in quel modo. Alla polizia risulta davvero strano che Sherry possa averlo perso. Sembra che effettivamente quel cellulare sia stato appoggiato per terra. A questo punto sui social media Kate prova a far valere le sue ragioni, cercando di mettere fine alle voci che già stavano iniziando a girare su un suo possibile coinvolgimento nel caso. Si fa avanti anche la famiglia di Sherry, la quale sostiene che Kate non avrebbe mai fatto del male a sua moglie. Non avrebbe mai e poi mai lasciato i suoi bambini senza una madre. Dicono più volte che si fidano di Kate al 100%. D'altro canto Kate sembra davvero disperato, vuole ritrovare sua moglie. Insomma sta cercando in tutti i modi possibili di riportarla a casa. Ormai sono passate un paio di settimane dalla scomparsa di Sherry, quando nel caso fa la sua entrata in scena un ragazzo di nome Cameron Gamble. Cameron è un esperto di rapimenti, o meglio, è un negoziatore professionista che prova e riesce a liberare delle persone tenute in ostaggio in tutto il mondo. Ipotizza che Sherry possa essere vittima del traffico di rapimenti. Molte persone credono che in realtà Cameron sia solo un opportunista che cerca di promuovere la propria attività. Ed è così, Cameron in breve tempo si rivela un pavido, a caccia di fama e interviste, ovviamente in cambio di denaro. Sono passate ormai tre settimane dalla scomparsa di Sherry, il ringraziamento si sta avvicinando e ormai si teme di non poterla più trovare in vita. Arriviamo al 24 novembre del 2016, è la mattina del ringraziamento. Sono circa le 4 del mattino e c'è una donna di nome Allison che guida con in macchina sua figlia lungo una strada della contea di Yolo. Le due stanno già viaggiando da circa otto ore e, ad un certo punto, vedono una donna sul ciglio della strada. È in piedi ed è estremamente vicina alle macchine che sfrecciano ad alta velocità. È chiaro ad un primo sguardo quanto sia totalmente terrorizzata. Sta cercando in tutti i modi di far accostare qualcuno e ha gli occhi spalancati fuori dalle orbite. Allison, vedendola a primo impatto, rimane sorpresa. Poi riflette per due secondi e capisce che c'è qualcosa che non va in quella donna. Sua figlia, che è sveglia, le chiede di fermarsi. Allison però ha notato che quella donna ha il viso molto sporco e l'è parsa parecchio disturbata per quel poco che è riuscita a notare. Allison non sa assolutamente cosa fare, è lontana da casa e time che quella sia una trappola. D'altronde sono le 4 del mattino, è ancora molto buio. La donna quindi continua a guidare, nonostante sua figlia insista, perché si fermi per prestare soccorso a quella donna. Allison però non se ne va, semplicemente accosta la macchina un pochino più avanti. Si ferma e chiama il 911 senza scendere dal suo veicolo. Allison, come vi ho detto precedentemente, è nella contia di Yolo. Il dipartimento di polizia riceve la chiamata e quindi si muove velocemente per raggiungerla. Tuttavia la donna è molto preoccupata, ha sua figlia in macchina, quindi decide di ripartire e di non rimanere lì ad aspettare l'arrivo della polizia. E d'altro canto la centralinista del 911 le assicura che la polizia sarebbe presto arrivata, per assicurarsi che quella donna stesse bene. Quindi arriva la polizia e quella donna terrorizzata è proprio Sherry Papini. Sherry è a 240 chilometri da casa e sono trascorsi ben 22 giorni dalla sua scomparsa. Allison aveva sostenuto che Sherry avesse il viso sporco, se ricordate. Quella però non era sporcizia, bensì lividi. Sherry è coperta di lividi, ha tanto sangue secco addosso ed è stata incatenata. Ha ancora una catena intorno alla vita, che si collega ai suoi polsi con delle fascette stringicavo. Ha pochi vestiti addosso, inoltre sono rotti, malconci, ma soprattutto sono abiti estremamente leggeri. Per l'esattezza indossa un paio di pantaloncini e una maglietta bianca. Quegli indumenti non li indossava assolutamente il giorno della sua scomparsa. Sherry, il giorno della sua scomparsa, era intenuta da corsa. Ma soprattutto è dimagrita tantissimo. Inoltre Sherry è stata ripresa da una telecamera di sicurezza. E la polizia, quando bisogna il video, vede Sherry, che corre verso una chiesa locale. Si ferma un attimo. Poi rincomincia a correre freneticamente verso la casa di qualcuno, probabilmente per chiedere aiuto. Non ricevendo risposta, Sherry, sempre in preda al panico, corre verso la strada per cercare di fermare qualche automobilista. Sherry dice alla polizia che era preoccupata perché le persone non l'aiutavano. Temeva che il problema fosse il fatto che avesse addosso delle catene. Forse la scambiavano per qualche carcerata fuggita da qualche prigione. La polizia in ogni caso si rende conto dello stato in cui versa la donna. È ferita. Di conseguenza chiamano un'ambulanza che trasporta Sherry in un ospedale vicino per essere visitata. C'è però un problema perché la prima cosa che chiunque prova a chiederle dopo aver visto le sue condizioni è Ma chi ti ha fatto questo? Chi ti ha ferita così? Come ti sei fatta così tanto male? E ahimè Sherry non ricorda praticamente nulla di ciò che ha subito in modo chiaro. Non ricorda cosa le sia successo. In realtà riesce a malapena parlare. Il trauma più importante che riporta Sherry è quello al naso perché ce l'ha rotto. La sua faccia è piena di lividi, così come tutto il suo corpo. Il punto è che non sono lividi freschi, bensì sono lividi sopra ad altri lividi semiguariti, sopra ad ulteriori lividi. Questo vuol dire che Sherry è stata picchiata davvero a lungo e selvaggiamente. I suoi capelli biondi lunghi le sono stati tagliati appena sopra le spalle e si vede che in pratica le hanno preso delle ciocche di capelli a casaccio così per poi tagliarliele in questo modo. Probabilmente come segno di umiliazione. Inoltre è rimasta legata per un bel po' di tempo. Riporta infatti dei profondi solchi anche sul collo. Come se qualcuno l'avesse legata ad un gancio attaccato al muro con una fascetta stringicavo. Sherry ha anche un marchio sul corpo, più precisamente dietro la spalla. Quel marchio è totalmente coperto da una crosta e gli investigatori non hanno mai reso noto di che tipo di marchio si tratti. Ma insomma la cosa è alquanto inquietante e qui c'è una domanda. Perché marchiarla in questo modo? Solitamente è un gesto del genere. Ovviamente portato all'estremo ha solo una finalità, ossia il possesso. Ti marchio quindi sei mia, ti possiedo, faccio di te quel che voglio, ti do da mangiare quando voglio e cosa voglio e se mi va ti picchio pure quanto mi pare. Perché a questo punto sei marchiata, sei di mia proprietà. Ovviamente le autorità prelevano dei campioni di DNA, dai vestiti e dal corpo di Sherry. E i risultati riveleranno la presenza del DNA di una donna e la presenza del DNA di un uomo. Nel frattempo chiamano anche Kate dall'ospedale. Gli dicono che sua moglie è viva, sta bene ed è ricoverata in ospedale perché è ferita. Quindi Kate va all'ospedale e finalmente riabbraccia sua moglie. Ci vorranno mesi perché Sherry riesca a ricordare ciò che ha vissuto in quei 22 giorni di prigionia. Man mano che passa il tempo le riaffiorano i ricordi, ma non riesce fin da subito a ricordare i dettagli di ciò che le è accaduto. È vero, Sherry ci mette parecchio a ricordare, ma si tiene sempre in contatto con la polizia. Va sempre a rilasciare dichiarazioni. Appena si ricorda anche solo di un piccolo dettaglio, lo fa sapere allo sceriffo della contia perché il fine a questo punto è quello di catturare chi le ha fatto del male, chi l'ha rapita, perché resta ancora una persona libera. Presto viene annunciato anche al pubblico che Sherry è stata ritrovata. E ovviamente le persone sono sollevate e la sorella di Sherry, che di nome fa Sheila, rilascia una dichiarazione a nome di tutta la famiglia, ringraziando la comunità per il loro aiuto, per l'aiuto delle forze dell'ordine e infine per aver riportato a casa Sherry sana e salva. Come già vi ho detto, man mano che il tempo passa, Sherry inizia a ricordare. E quindi ogni volta che le riaffiora un ricordo, si dirige dalla polizia per rilasciare nuove dichiarazioni. La donna descrive i suoi rapitori, anzi le sue rapitrici, come due donne ispaniche, che parlavano principalmente spagnolo, quindi Sherry non capiva assolutamente nulla di ciò che dicevano. Ricorda vagamente l'aspetto di entrambe. Dice che una donna aveva dei grossi orecchini tondi, dei capelli ricci e infine aveva delle sopracciglia molto sottili. Ma per la maggior parte del tempo queste due donne si coprivano il volto. E per la maggior parte del tempo Sherry aveva una borsa di stoffa calata sul viso, che, ahimè, le impediva di vedere qualsiasi cosa. Una donna, dice Sherry, aveva più o meno dai 20 ai 30 anni, mentre l'altra era più anziana, forse aveva dai 40 ai 50 anni. La seconda donna aveva dei capelli lunghi, lisci e scuri e delle sopracciglia folte. Nel periodo in cui è sparita, Sherry è rimasta rinchiusa in un piccolo scantinato sporco. La donna, ormai libera, racconta che i suoi figli le erano mancati così tanto, che in un momento di sconforto aveva preso un pezzo di stoffa, l'aveva arrotolato facendo un fagotto e aveva iniziato a cullarlo fingendo che fosse sua figlia Violet. Questo è tutto ciò che Sherry riesce a ricordare e sono delle informazioni effettivamente limitate. La domanda però per quanto mi riguarda emerge più prepotentemente delle altre. Perché Sherry è stata liberata? Sherry racconta che il giorno in cui le avevano lasciato andare aveva sentito chiaramente le due donne al piano di sopra discutere. Poi aveva sentito il rumore di uno sparo e infine, poco dopo, una delle due donne era andata a prenderla per trascinarla in macchina e lasciarla libera a circa 240 chilometri da dove l'avevano rapita. Sherry ovviamente era sotto shock e non riusciva a credere di essere stata liberata. Aveva iniziato a camminare alla cieca perché ancora aveva la borsa calata in testa, davanti agli occhi. Quindi aveva provato a camminare cercando di sfilarsi quella borsa dalla testa. Le gambe le facevano un male terribile. Ma finalmente, quando era riuscito a capire dove si trovava, ossia su una strada, aveva iniziato a correre. Poco dopo aveva visto che vicino a quella strada c'era un piccolo centro abitato. Quindi era corsa verso la chiesa e poi verso la casa di qualcuno. Non ricevendo aiuto aveva deciso di tornare sulla strada per cercare di fermare qualche automobilista. Era proprio in questo momento che Allison l'aveva notata all'autostrada e quindi aveva chiamato la polizia. Sherry ovviamente è felice di essere tornata a casa con i suoi bambini e felice di poterli riabbracciare. Il problema a questo punto diventa l'opinione pubblica. Chi ha ancora moltissime domande su questo assurdo rapimento? Che pare davvero privo di senso e a questo punto le voci e le malelingue iniziano davvero a girare. Altre persone non pensavano male di Sherry, ma avevano parecchie domande senza risposta su questo caso. E avere domande o dubbi credo sia lecito. Anche io mi chiedo perché abbiano rapito Sherry per poi farla tornare a casa 22 giorni dopo senza alcun motivo. Ed è la stessa identica domanda che si fa anche la polizia perché qui obiettivamente non vi è alcun movente. Forse se Sherry avesse potuto comprendere le parole che si scambiavano queste due donne avrebbe anche compreso il loro piano. Purtroppo parlavano in una lingua lei sconosciuta e quindi non è mai riuscita a capire nulla. Ad un anno di distanza dal suo rapimento, quindi nel 2017, Sherry è in grado di raccontare alcuni dei suoi ricordi per dare abbastanza informazioni sulle due rapitrici, col fine chiaramente di creare un identikit. La polizia rilascia questi identikit al pubblico e nel frattempo prende in considerazione tantissime ipotesi. Ci sono molti autori di reati intimi nella zona, quindi la polizia spicca ben 20 mandate di perquisizione per diverse persone sospette, controllano i loro cellulari, i loro conti bancari, i loro social media, dedicano davvero molto tempo a queste indagini e vogliono scoprire chi abbia rapito Sherry. La polizia a questo punto decide di rilasciare maggiori informazioni al pubblico e in questo modo la gente scopre che sui vestiti trovati addosso a Sherry sono stati individuati due DNA, uno maschile e uno femminile, che però inseriti nel database non hanno dato alcuna corrispondenza. Il DNA maschile non corrisponde a quello di Kate, ma soprattutto Sherry sostiene di essere stata rapita da due donne. A questo punto Sherry e Kate iniziano ad allontanarsi per prendersi cura di loro e evitano di parlare di questa storia e insomma cercano semplicemente di riprendere in mano la loro vita. E questa cosa fa impazzire l'opinione pubblica, tanto che arrivano a insinuare che questa storia sia tutta un complotto, un finto rapimento che si sono inventati Sherry e Kate. Con che fine? Non è assolutamente chiaro. Nello stesso periodo la polizia rilascia altrettante informazioni. Dicono che prima della scomparsa Sherry aveva una relazione tramite messaggi con un altro uomo di Detroit, nel Michigan. La polizia quindi una volta preso questo fatto, spicca ben 12 mandati di perquisizione per questo uomo in Michigan. A questo punto l'opinione pubblica si chiede perché la polizia non abbia condiviso queste informazioni fin dall'inizio. A quanto pare Sherry conosceva questo uomo da anni. Avevano appena rincominciato a sentirsi tramite messaggi proprio nel periodo della sua scomparsa. I due avevano continuato a parlare regolarmente fino alla fine di ottobre 2016. Sherry era sparita nei primi giorni di novembre del 2016. Tuttavia nessuno ha spiegato la natura della loro relazione. Nessuno ha mai pubblicato neanche uno dei messaggi che si sono scambiati. Ma pare che Sherry avesse intenzione di incontrare questo uomo di persona. Questo uomo però era stato indagato ed era anche stato scagionato da qualsiasi coinvolgimento nella scomparsa di Sherry. L'opinione pubblica ormai crede che Sherry abbia inscenato per qualche motivo il suo rapimento. E non lo pensano solo le persone. Infatti Ken Ryan, un professore di criminologia con più di 25 anni di esperienza, dice queste esatte parole. Sono 25 anni che lavoro in questo campo. Non ho mai visto un caso come questo in cui qualcuno è stato rapito, tenuto prigioniero per 20 giorni e poi rilasciato. Niente di tutto ciò ha senso. Molte persone a questo punto chiedono alla polizia di sottoporre Sherry al test del poligrafo. La polizia però non prende neanche in considerazione quest'idea. Non vogliono che la vittima di un rapimento faccia il test del poligrafo. Gli investigatori pare siano dalla parte di Sherry. E a questo punto, oltre a sottolineare le cose ambigue che in questo caso non tornano, e non sono poche, è necessario sottolineare anche un altro aspetto dell'opinione pubblica. Perché a mio avviso le cose non sono chiare da qualsiasi prospettiva le si guardi. Molti trovano assurdo che Sherry abbia inscenato il suo rapimento senza un motivo logico, senza ottenere nulla in cambio. E lo penso anche io. Inoltre, se ricordate, è stata marchiata a fuoco sulla spalla. Ed è impossibile che si sia marchiata a fuoco da sola. Allison, la donna che aveva trovato Sherry sul ciglio della strada, rilascia un'intervista dicendo che non c'è nessun motivo per non credere alla storia di Sherry. Lei l'ha vista. Era terrorizzata e non dubita affatto della sua storia. Nel 2020, Sherry e Keith rilasciano una dichiarazione al New York Post tramite il loro addetto stampa. Che dice? Sherry e Keith rimangono fiduciosi del fatto che prima o poi questo caso verrà risolto e i responsabili assicurati alla giustizia. Ad oggi i detective non sono più vicini di sei anni fa a risolvere il caso. Alcuni ormai sostengono che quel caso sia da considerarsi irrisolto. Mentre gli investigatori affermano che stanno ancora lavorando e cercando nuove piste. Ad oggi Sherry sta bene. Vive nella periferia di Shasta Lake, nel nord della California, però esce di casa molto raramente. Sta quasi sempre in casa e fa un'enorme fatica anche solo a portare i figli a scuola. Detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video. Fatemi sapere davvero cosa ne pensate di questo caso. Vi devo dire la verità, non ho un'opinione precisa di ciò che è successo a Sherry, però non credo che stia mentendo. Io non credo che abbia finto il suo rapimento, però è chiaro che ci sono delle cose che non tornano. Quindi fatemi sapere quello che pensate qui sotto nei commenti, non vedo l'ora di leggervi tutti. Nel frattempo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fatti bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non fate nulla di criminale. Ciao a tutti. Ciao a tutti.